I grafici sulla diffusione del coronavirus nel nostro territorio parlano da soli. Negli ultimi giorni i contagi sono in costante e vertiginosa salita, tanto da raggiungere ormai i livelli di fine aprile. Allora però la curva era in discesa, a differenza di quanto accade oggi. Il bollettino giornaliero è decisamente pesante. Nella nostra provincia si registrano 75 nuovi contagi da covid e un decesso. Di una donna di 93 anni. Le vittime ufficiali sono 999. Per un disallineamento nella comunicazione tra azienda sanitaria di Piacenza e Regione, nei giorni scorsi n'era stata segnalata una in più. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 7 rispetto ai 6 di ieri. Dei nuovi positivi, 45 sono asintomatici, individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening. Sui 75 casi positivi oggi in provincia di Piacenza, 20 sono stati trovati grazie proprio all'attività di contact tracing. 3 attraverso i test per le categorie più a rischio, mentre per 22 nuovi positivi l'indagine epidemiologica è ancora in corso. I sintomatici sono 30. L'età media dei nuovi contagiati è di 46 anni. Dall'inizio dell'epidemia i piacentini positivi sono 5.842, un numero che sembra enorme ma che in realtà è decisamente sottostimato.